Sabato 8 e domenica 9 settembre, Baucina vi aspetta per la 228esima edizione della festa di Santa Fortunata. Con la solenne processione del Sacro Corpo, il corteo storico di personaggi in costume d'epoca romana e la tradizionale Volata degli Angeli. Mentre lunedì 10 settembre Bianca Zè in concerto, dalle ore 22, ingresso libero. Durante la festa ci sarà una lotteria locale di beneficenza organizzata dall'Associazione Santa Fortunata, dove verrà sorteggiata una Fiat Panda. Vi aspettiamo! Seguiteci anche su Facebook con Fraternita e Associazione Santa Fortunata.